E' andata male, primo pareggio in campionato, un Verona che viene subito ripreso in vetta. Sì, è andata male, purtroppo non abbiamo fatto una grandissima partita, noi però i gol li avevamo fatti, purtroppo non ci sono stati dati e poi siamo stati sotto tono per tutti i 90 minuti. Anche pesanti responsabilità nel gol preso, perché insomma una penetrazione centrale è così senza alcun ostacolo. Sì, come ho detto abbiamo preso la partita nel modo sbagliato, abbiamo concesso tanto, abbiamo fatto poco e direi che il pareggio sostanzialmente l'abbiamo raggiunto sul finale, fortunatamente, anche se poi di occasioni ne abbiamo avute veramente tante. Era difficile anche giocare perché i falli non venivano mai sanzionati ed era difficile sviluppare un'azione e fare qualcosa di buono. È un campionato strano, oggi Tavagnaco ha perso incredibilmente, poi è un Verona che addirittura ha guadagnato un punto su Tavagnaco. Sì, abbiamo guadagnato un punto su Tavagnaco, però ne abbiamo persi due sulla Torres. A me interessa guardare sempre quelli avanti, non quelli indietro, per cui direi che è stata una giornata negativa. Allora Melania, partitaccia, la vetta solitaria è durata solo una settimana? Sì, purtroppo oggi non abbiamo giocato, non abbiamo fatto un'ottima prestazione e abbiamo subito loro e non siamo riusciti a stare alte e a costruire il gioco. Dispiace, c'è grande delusione, però purtroppo è così e andiamo avanti. È un campionato strano, ha perso anche il Tavagnaco, adesso si va a Roma contro la Lazio. Sì, è un campionato equilibrato. Noi dobbiamo dimenticare, come abbiamo dimenticato la vittoria di Torres, dobbiamo dimenticare questa prestazione. Sabato sarà un'altra partita difficile perché giù da loro è difficile, quindi dobbiamo prepararci al meglio e dimenticare questo pareggio. A Maria chiediamo, insomma, è andata male questa partita, anche se poi la sua prestazione è stata ottima? Sì, effettivamente concordo. Si poteva giocare meglio sia in fase d'attacco che in fase difensiva e quindi questo è il risultato che ne è venuto fuori, è il frutto del non gioco che è stato fatto oggi. Che impressione hai dopo due giornate di questo campionato italiano? La maggior parte delle ragazze sono tecnicamente di alto livello. A mio avviso sarebbe necessaria una maggior forza fisica, una maggior concentrazione in fase di possesso di palla. La maggior parte delle ragazze è più agressiva e più veloce, quando, per esempio, cambiamo da un'altra parte, da un'altra parte, da un'altra parte, da un'altra parte più veloce.